In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli, Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. E scusazio non petita, accusazio manifesta, così diceva un vecchio detto latino, cioè in soldoni, se mi giustifico per qualcosa di cui nessuno mi accusa, probabilmente qualcosa ho combinato. Ecco, Gesù comincia così. Non crediate che sia venuta ad abolire la legge dei profeti, ma effettivamente nel Vangelo non c'è scritto nulla nelle righe precedenti per cui era accusato di questo. Nessuno lo aveva accusato. Forse che Gesù si giustifica di qualcosa che invece ha commesso? No, è impossibile. Gesù non dice bugie, né ha problemi a difendere le sue idee. Dalla sua bocca esce sempre all'inizio dei discorsi un amin amin, cioè in verità vi dico, proprio perché Gesù non esprime titubanze o insicurezze, sa ciò che dice. Quindi il problema era proprio questo. Giravano voci che Gesù era un pazzo eretico, capace di disintegrare la secolare scienza della Torah e l'autorità dei profeti. Così dicendo, avrebbero messo Gesù in scacco perché tutto il popolo si sarebbe ribellato contro di lui. E allora Gesù si difende, giustamente. Non cade in questa trappola e anticipa l'accusa. Gesù non è venuto per eliminare la legge, ma per portarla a compimento. Perché anche la legge ha bisogno di un oltre, di un'apertura di orizzonti, di una via di uscita. La legge non è sbagliata, è semplicemente a servizio di un disegno più grande. È una strada percorribile, ma la meta non è la legge, è l'amore. Quando ero mister in gioventù e allenavo una squadra di calcio di bambini, ho insegnato un giorno un semplice schema per battere una punizione. Fatto sta che arriva la partita e capita proprio una punizione dal limite, pronta da schema. Ebbene arriva un bambino e senza pensarci tira direttamente in porta e fa gol. Tutti esultano tranne uno, il quale viene a protestare da me dicendo Mister, ma dovevamo fare lo schema. Ecco l'esempio di un piccolo figlio della legge. Alla prossima Grazie a tutti.